Correva la mattina del 25 luglio scorso quando in una villetta bifamiliare di via Pirandello alle porte di Fossombrone il 47enne Andrea Marchionni scendeva dalla sua abitazione fino al piano sottostante per uccidere con un colpo di pistola alla fronte la cognata Marina Luzzi, 39 anni, mamma di una bambina di due anni e mezzo. Bambina che proprio in quel momento si trovava a pochi chilometri di distanza assieme al papà Enrico, fratello dell'omicida. Assassino che pochi minuti dopo si sarebbe consegnato spontaneamente ai carabinieri di Fossombrone confessando il delitto e portando con sé la sua pistola Beretta regolarmente detenuta con porto d'armi per attività sportiva. Un delitto sconcertante che ieri nel tribunale di Urbino ha avuto uno sviluppo processuale destinato inevitabilmente a fare discutere perché la pubblico ministero Simonetta Catani ha chiesto il trasferimento di Marchionni dal carcere di Villa Fastigi dove detenuto con l'accusa di omicidio volontario ad una REMS, ovvero ad una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per casi psichiatrici. Questo il pronunciamento in seguito al risultato della perizia psichiatrica che ha rilevato l'incapacità di intendere e di volere al momento dell'omicidio. Perizia che avrebbe delineato un quadro di schizofrenia paranoide e psicosi delirante. Perizia che fu avviata sulla base dello sconnesso interrogatorio post-omicidio in cui Marchionni, confessando il delitto, parlò di un complotto massonico con coinvolgimento della cognata per contagiarlo con le presunte nanotecnologie presenti nel vaccino anti-Covid. Deliri che lo avrebbero indotto a sentirsi perseguitato da Marina Luzzi in una distorta percezione della realtà che lo portò poi a commettere l'omicidio. Ora toccherà alla GIP esprimersi sulla concessione o meno del trasferimento dal carcere alla Rems in considerazione della pericolosità sociale dell'arrestato. Sconcertata dalla decisione la famiglia della vittima nella prendere una presunta infermità mentale nei confronti di un soggetto a cui fu rilasciato il porto d'armi non troppo tempo prima.